Tra una votazione e un'altra, un'urna e un'altra, insomma io mi auguro che siate anche qui con noi per ascoltare i vostri messaggi. Mara, grazie di tutto ciò che ci proponete, siete divertentissimi, ovviamente rivolto alla nostra televisione. Carla, il voto e Zichichiri, Fetta, italiani, le fette in genere le associavo ai salami. Speriamo che stavolta si mostrino tutti d'un pezzo invece. Credo che forse si riferisce al professore che ha detto Fetta anziché, non lo so, il linguaggio del professore parla cinque lingue tutte insieme, tra le altre cose. Gino, hai comprato la Toyota? Ah, lo Sport ha visto, pensavo me la volesse rigare. Hai comprato la Toyota? Una volta era la macchina dell'idiota, grazie, scherzo, scherzi una sega. Alessandra, Jacopino, pane e vino. Ciao Jacopino, buon di Leo. Grazie Mario, sempre su Jacopo, ti aspetto tutte le domeniche come se si avesse un appuntamento personale. Laura, sempre sul ricordo di Jacopo, che tra l'altro è l'altro filmato su questa home page. Leggere sul post di Facebook che il filmato, lui, lo guarda da lassù, fa venire i brividi. Si capisce quanto ti manca questo ragazzo. Sei un grande. No, lui è un grande, non io. Luciana, Jacopo e le sue ricette. È bello rivedere queste scene, sia l'illusione che esista ancora. Milan, facile, eh? Vestire tutto in viola quando la Fiorentina vince. Peccato che tutti ci vestano di radio. Infatti mi durano da un sacco di tempo. Ilaria. Andrea, l'inviato a Rimini. È libero? Carino. Sentiamolo. Io non lo so, sai, non faccio illazioni. Botolo uncazzato. Ma st'Andrea dappertutto. Con te col tocci, anche desiderato dall'Ilaria. Trombele tutte te, mi raccomando. Questo è per Andrea, eh? Mirko, l'omicidio della ragazza di Pistorius. E poi l'hanno sgamato subito perché le bugie hanno le gambe corte. Tutte cattive, eh? Questo è proprio da Toscano. Patrizio, Pistorius, sì, ma a me non piaceva. Inventava spesso le scuse che non stavano in piedi. Qui c'è, ecco, veramente. Ancora su Pistorius, Marco. Pistorius ha perso la testa della serie. Chi non ha testa abbia gambe. La follia di Pistorius, ancora Francesco, poteva almeno cadere in piedi. Non aggiungo una io. Era da ragazzo, però si dava sempre da fare. Bastava dirgli gambe e spalla. Che lui apriva la mano e pigliava. Ha detto a tutti la sua. Carla, ragazzi, attenti che vi arrestano per burlismo. Questa è molto carina. Anzi, il Tunibbi deve essere belledento, che è un pezzo che lo rivedo. Il burlismo mi piace. Monica, Leonardo, udio, ma bello che sei. Laura, Leonardo, Franceschi, rimani sempre un mito che bello che sei. Avanti. Gelosa, eh. Manuela, come mai la Rita è un buttino e tu sei bellina? No, 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 non c'è scritto. Manuela dice, ma Billino, sembra un po' presa di culo, però mi fa piacere uguale. Luciana, il sondaggio sugli indecisi. Le novelle le ascoltavo da bambina, adesso sono cresciuta. Un saluto lei. Oh, oh, oh. Luciana scrive sempre le finali. Oh, sono stata... Sembra una lambretta di passaggio. Renzo, Giannino Bugiardo, guarda che mandrà che lo batte di gran lunga, lo so, lo so. Mara, le macchine abbandonate, il servizio che abbiamo fatto su Arezzo, perché non le portano al parcheggio mecenate? Almeno lo vitalizza un po'. Alvaro, su Chiaritondo TV, ciao Leo, niente da dire, sei il più forte di tutti, continua così. Il Saracino, messaggio urgente per Mandrake. Abbiamo le strade dissestate, piene di buche. Vorrei sapere dal nostro sindaco, quando ha, con l'H si scrive, intenzione di farle riparare. Che fine hanno fatto? Vedi che qui c'è la messa. Che fine hanno fatto i soldi che abbiamo versato per l'Imu? Forse ha paura che Berlusca, se vince le elezioni, dica di restituirli. Mi sa di sì. Monica, Leonardo Franceschi, bravo, c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dire ciò che pensa. Se l'avevo detto era meglio, avrei occupato una posizione molto meglio di quello che occupo. Luana, il Kenya pericoloso, io ci sono stato ed è la verità, è stato un incubo. Lucilla, violenza in Kenya. Mia figlia era là due settimane fa, tanta paura tra gli italiani in vacanza. Marco su Boulevard e Clochard, quel servizio che abbiamo fatto sul poveraccio nella piazza dello Sportello Unico. Ne avesse indovinata una. E poi ogni basta era fatto un danno solo. Arezzo è concia peggio che nel 43. Allora almeno c'aveva un tiro le bombe. Marco, Stella, Gabriele, quanti sono questi? Sul Clochard vicino a Boulevard, credo che la cosa più schifosa sia, visti i fallimenti di questa giunta, i soldi veramente buttati via, il silenzio di queste persone. Purtroppo D'Arezzo vige la legge del voto rosso. Qualsiasi persona, basta, si presenti con il simbolo rosso, viene eletta, a prescindere. E infatti si vede come questa città sia obsoleta, commercialmente finita, ma tanto boriosa. Questi sono un cazzate. A retina furente, sai cosa sei Fanfani? Sei solo chiaccere fascia tricolore. Questo mi ricorda quel film di gangster. Sai cosa sei solo un chiaccere distintivo, quel poliziotto. Bato l'ho un cazzato, si risente. O sta a vedere ora è. Digni neanche al sindaco che c'è il Clochard a Rezzo, così dopo i Boulevard si costruisce anche... Ah, digni neanche, non avevo capito, digni neanche al sindaco che c'è il Clochard a Rezzo, così dopo i Boulevard si costruisce anche la Torre Eiffel. Io lupo e con questo bellissimo messaggio molto... Buon domenica! E di la botola un cazzato, quello dice a me. Vi saluto, buona domenica a tutti.